Oggi ragazzi siamo con Calpis in partita perchè finalmente sono uscite tutte le sfide di Aquaman e soprattutto regà la sfida per sbloccare ovviamente la skin ma anche quella per sbloccare il nuovo tridente di Aquaman regà Oggi dovremo completare tutte, ci serviranno due partite, una partita in cui sbloccheremo il tridente di Aquaman e un'altra partita in cui dovremo sbloccare la skin regà Perchè io sono a tre sfide in ritardo quindi praticamente in una partita vorrei fare due sfide insieme Perciò Calpis in questa partita voglio sbloccare assolutamente il tridente perciò conquistiamo il tridente nella cara con l'aldina quindi questo posto qua sostanzialmente E poi facciamo una prova a tempo di nuoto a, no anzi prendiamo diversi tipi di pesce in una stessa partita Direi che non è male Calpi che ne pensi? È abbastanza facile cioè Non proprio però dai noi ci proviamo Regà vi ricordo di raccordare come al solito un bel like Non dimenticate di iscrivervi al mio secondo canale link in descrizione in cui ci saranno un sacco di vlog e cose varie nella villa degli youtuber Con il check up sono se siete dei veri capitani e mi raccomando regà fatemi sapere cosa sotto nei commenti se avete già sbloccato la skin di Aquaman Calpi andiamo sabbia Mia 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 è morto mannaggia te che cosa volevi fare rubarmi la casetta per caso No che non mi darò Ha trovato una pistola bianca anche lui Calpi vedo che era una lotta a darmi pari Io comunque raga non sono attirato sabbia perché ovviamente insomma non volevo dare troppo vantaggio ai nemici Calpi Sì non è che ti sei lendato male Ma no assolutamente no infatti non volevo dare abbastanza vantaggio ai nemici E Calpi dobbiamo andare assolutamente a Che cavolo No 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 volevo fare questa cosa qua per fare la sfida qui dai dove cavolo è Mannaggia non mi ricordo Scorriamo le sfide sfide acqua me ne eccolo qua Ah ok è qui ok perfetto Ho messo il punto dove dobbiamo andare Calpi e mi servono anche delle carne da pesca Ehm il problema Mi servirebbero anche uccidere questi nemici perché sono nella mia casa e sono molto Ehm il problema è che io ho esattamente due pistole e anche per giunta bianche Ho un pompa per te eh Ehm ok grazie magari potrebbe essere Ho il pompa singolo bianco Quindi è Giusto leggermente utile Calpi Beh meglio di due pistole bianche comunque Aspetta che arrivo Calpi sono ancora me Ok Eccolo Mannaggia te sei te Oh dove cavolo è Ah sì Ok aspetta che arrivo prende il pompa let's go Bravo Mannaggia Ah licenzo ma non li vedo ho paura Mi sa che sono sopra Eccoli Eh sì Niente Eh sono morto Calpi sono morto Oh ho ucciso acqua me l'uciso Dietro Oddio quanti acqua me non ci sono No 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 mi sparo l'altro team mannaggia loro Ah sono le esche sono le esche ok Ah ok Ah eccolo eccolo E' aura 77 Uno morto uno morto uno morto L'altro ha pochissima vita però anch'io ce l'ho Morto Grande Calpi Mamma mia riga Let's go ok Non siamo male di più Mi servono cure di vita Mi servono cure di vita Ah no no qua non c'era Assolutamente riga cure di vita Dai per favore un flopper Ma dove sono i pesci per pescare Calpi Non lo so Mannaggia ma a te ti servono scudini Sì E se li hai Te l'ho lanciato Ok Te l'ho lanciato solo uno Però perchè è solo quello Ok va bene Calpi mi servono pesci Porca miseria Ma a sabbia non era un bel posto Per pescare una volta No Infatti una volta era un bel posto Per pescare ma che cavolo è successo Attento che Potremmo trovarsi Oh addio No 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 Mi ha lanciato la cosa con la pistola Lo siamo messi proprio Ottimalmente Beh insomma direi no Direi di no Calpi direi di no Ok Calpi Medikit Oddio Oddio Ma perga Questa qui bobo mi va di lusso Te Calpi a cure come sei messo Guarda la mia vita Ma c'era un altro scudino C'era un altro scudino Calpi come calpi hai fatto a non vederlo È lì in quel punto in cui ho dato il mio Ah 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 C'è gente c'è gente fra No Calpi Calpi buscia Calpi buscia Calpi buscia Arriva 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 Forte 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 un bel porto Preso 45 Bravo Non ci credo Calpi Vai Rompi 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 Gli sparo Gli sparo Bravo Oh lei è deciso Eh no Però per la vita Ecco morto 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 Grande Calpi Oddio c'è l'altro Morto No Mamma mia Calpi let's go Oh mio dio liga che partita Oh mio dio liga che partita Oh mio dio liga che partita Eh altra gente Altra gente Come altra gente Sì Morto Mamma mia let's go Calpi Che fenomeno Che fenomeno Forse è finita la gente Se abbiamo fortuna Dobbiamo andare Dobbiamo andare assolutamente a fare la mia sfida Calpi Sì andiamo Anche la mia che io voglio sbloccarla Ah è vero anche te non l'hai fatta con la sfida Eh no Allora dobbiamo andare per forza Calpi C'è che cavolo È un po' fuori safe Però io ho due jump Hai medikit Ok jump Ho due medikit e due jump Mamma mia grande Calpi let's go Jumpa qui veloce 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 Ok Ragazzi finalmente posso annunciarvi la novità più attesa Boosteroid ha aperto i suoi server italiani Infatti raga con questi nuovi server italiani con Boosteroid potete giocare a una velocità mai vista prima E ovviamente con una migliore qualità Per quelli che non sanno cos'è Boosteroid ve lo spiego subito Boosteroid raga è un servizio che vi permette di giocare A giochi tipo Fortnite anche se avete come computer un tostapane O comunque sia un computer che fa schifo Ci sono più di 200 giochi a tua disposizione Puoi giocarci dal telefono Da un computer che fa schifo L'unica cosa che ti serve raga è una connessione internet E un telefono Un computer schifoso Insomma qualsiasi cosa per entrare nel sito Potete giocare con i vostri amici al mare Potete giocare al parco Potete utilizzare il controller collegato al telefono Insomma raga Link in descrizione per abbonarvi a Boosteroid.com Nuova offerta a 4 euro al mese Disponibile per pochissimo tempo Raga vi ricordo raccomando Link in descrizione a Boosteroid Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Dov'è? Caracolare Ma come non c'è? Ma non è che No Calpi c'è lo squalo Mannaggia lui Ma non è che si conquista solamente una volta Ehm No non credo è impossibile Cioè una volta che lo prende uno Ah eccolo eccolo Dov'è? Lo vedo Ok lo ho visto Lo ho visto Vai vai Calpi dobbiamo muoverci Metti la giamba appena arrivi Metti la giamba Pesce 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 perfetto No ma che cavolo ho pestato Oddio ci metti pure un botto No stai scherzando Quanto ci metti? Eh un tipo 10 secondi Fammi salire Ok l'ho preso Sono diventato Ma come Te ti sei trasformato in Aquaman Sì diventi Aquaman automaticamente Eh ma io non ho completato le altre sfide Calpi No Allora devi pescare Ok ho preso il tridente perfetto No perché mi serve anche la sfida Calpi Dovremmo andare qua Se riusciamo da lì è perfetto Ma dai Calpi dove l'hai messa quella jump No Calpi muoio Mandati a te Ti posso restare No 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 Veloci Veloci no non muoio perfetto Non muoio Oh mio dio Ok veloce parco E poi ragazzi riusciamo ad andare a molly E' proprio il top Io ho tanto a un medic Te lo lascio Ok Oddio 4 di vita 4 No Calpi non lasciarlo qui E' fra se no muori Prendilo prendilo veloce Ok 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 va bene Io me lo sto facendo Te vai in safe Ok pesco un pece pesco un pece pesco un pece Mamma mia Oh prendi un pece perfetto Ti serve solo un altro tipo di pesce Esatto mi serve solo un altro tipo di pesce E poi ci sono Ok E dopo andiamo a mo Tanto molly ce la facciamo Farai un po' fuori safe Però ce la facciamo Ok sì sì Due peci due peci perfetto Prendi l'erdro Prendi l'erdro Prendi l'erdro Ok vai 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 Ok pozza di pesce Posta di pesce perfetto Perfetto Oh vai Completata la sfida Bella Medikit Medikit Ottimo 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 Me lo porto io a medikit Andiamo in barca ormai Tanto è tutta Veloce veloce lo c'è Veloce Calpi veloce 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 Aspetta potrei pescare un altro pece Vai Preso No niente Eh non mi Niente Sticavo Sticavo Sticacchi Vai Calpi mi manca solamente Una prova di tempo nuoto a moli molesti Ed è esattamente in questo punto Che cosa devo fare Devi prendere la prova di tempo Cioè nel senso prendi il coso Dopo c'è l'ostacolo Lì il percorso No e quanto ci metto Pochissimo 20 Eh ma è troppo Calpi Ma tanto abbiamo la jump Ho il medikit Abbiamo tutto Eh ok però No regà No regà è veramente difficile questa Questa qui Calpi se ce la facciamo Siamo proprio in kick Del burger No regà se ce la facciamo qui Top Vai Calpi Tra tutto se non sbatto C'è un'altra jump qui Non l'ho presa Vabbè Dove è la prova a tempo Calpi Eh qua dietro No ma che stai facendo non è qui Sì sì è qua è qua è qua Eccola 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 No senso Perché mi hai fatto scendere così lontano mannaggia te Non so dove sia io l'ho già fatta Ah ok allora qui Let's go Avviene la prova a tempo dove devo andare Io intanto Eh segui 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 Ma è lunga Calpi ci vuole un botto Ce la facciamo Stai tranquillo Io inizio a fare un po' una scaletta Per Fai la jump vicino Fai la jump vicino Sì Qui Dai regà veloci dai regà veloci Ma siccome andava fatta con la barca sta roba eh Completata 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 Ok 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 Penso di sì Ok 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 Però non mi è apparso Eh ma perché mi sa che l'ultimo Cioè se prendevi il tridente te lo dava subito Ah te dici devo prendere il tridente la fine ok Fra metto la jump Vai Eh non può Non ho materiali Non ci credo Oddio Arrivo arrivo Non ci credo Non ci credo Fammi un percorso Calpi se riesci Ok Va vai Stiamo facendo tutte le vende del mondo Let's go La cavolo di sputa Mamma mia regà Ma ce l'abbiamo fatta No vabbè Non ci credo Ok Dici che ce la faccio senza farmi le vende in volo Eh sì 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 Ti dici Tra Io vado a prendere pure quest'altra jump Io una me la faccio Io una me la faccio No regà io non ci credo che cosa abbiamo fatto Calpi Cioè siamo veramente Cosa abbiamo fatto Mi sa che io voglio eh Siamo dei king Come te muori Eh perché guarda Oddio Hai vende per me eh Sì ne ho quattro Eh Ciao No Calpi dai non ci credo ma te non avevi niente per curarti Avevo il medikit me lo son fatto No muoio anch'io Calpi per forza Sì 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 sono morto 100% Non abbiamo niente No te no Eh no come no C'è un medikit qui Sì vabbè che fortuna Calpi sono morto No io son morto Cioè te ti fai le bende e prendi il medikit Io son morto Ah te dici che mi conviene prendere il medikit Sì 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 Prenditelo Fatti le bende Benda 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 veloce Benda veloce benda veloce Un'altra benda veloce 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 cavolo Oh mio dio regà che tensione Oh mio dio regà che tensione Ok fermo Calpi Però forse riesci anche Non rebuttarmi forse No no non ce la farò mai Cioè non credo Cioè a parte che dicevo che Non ce l'avrei mai fatta con le sfide Invece alla fine ce l'abbiamo fatta Dai 30 metri il medikit Me lo devo fare a 20 secondi Eh fatelo subito Fatelo subito Ora 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 Fermo Fermo Calpi oh mio dio Prendimi la scheda nel caso Mamma mia regà quanto mi sto gasando Mamma mia regà quanto mi sto gasando Veloce 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 Non mi serve Eh oddio puoi rebuttare No non è vero No non c'è roba per i reboot Vabbè ok La fattoria si però Io mi son salvato Oh mio dio Guarda per la fattoria Perché è quasi in safe Eh però Calpi Ah no ce la fai perché fa due Ok No non lo so forse ce la fai Ce la potrei fare regà Fermi 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 No se ce la fai Calpi il mio problema è che ho tipo due di materiale Ma c'è Potrebbe essere un piccolo problema Sì questo qui potrebbe essere un enorme problema C'è una barca qui perfetto Oh buono 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 Oh eh affiaccina c'è il pesce C'è il pesce Dov'è Avevi lasciato il flopper C'è la pozza a destra Ok No Perfetto Che schifo Mi metto qui Oh mio dio regà che cosa sto facendo Oh mio dio regà che cosa stiamo facendo Calpi Vabbè Calpi siamo i king Oh mio dio Calpi siamo i king Non ci credo Calpi siamo i king Siamo i king regà Siamo i king Se l'abbiamo fatta davvero Vabbè io Ti lascio Lo scudo a te Calpi Ok Tanto io sono full beat Anzi Vabbè no 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 tranquillo Ti prendo le pannocchie Prendi quello che ti pare Prendi quello che serve Regà Questa partita è epica Questa qui ti gio Regà Codice cup Vi dico solo codice cup Nelle cose oggetti Regà C'è l'unica Regà una partita più epica di questa Penso che non Non avremmo potuto trovare Oh c'è gente Dov'è Fra fra c'è gente Non possiamo morire così No no è sopra Ho visto Eh non so come attaccarlo Calpi Ho troppo Io devo farmi la big Fatte la fatte la veloce Ho solo la pistolina No Ok ti lascio la metraglietta Vieni qui Anzi anzi ti lascio il pompa Ti lascio il pompa Pompè ritengo la metraglietta Perfetto Vai veloce Perfetto Perfetto Quello che ti serve Andiamo Calpi Colpi medie pompa Se ne hai un po' Prendili qui Prendili qui Oh attento Attento Via via da qua Fermo Tieni Tieni Colpi pompa Colpi pompa Te lo dati Via 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 Ok tranquillo Adesso ho tutto Via Calpi Fra devo uccidermeli Dove il tizio? Eh sono sopra Vieni No non ho mazzo Non ho mazzo Non ho mazzo Eh pure io Non ci volevano questi qua adesso No questi qua infatti Ci hanno bella che rotto le scatole Però raga abbiamo fatto Una delle robe penso più epica Che Gli abbia mai visto su Fortnite Aspetta magari riesco A farmi Capi sono da me E da me Io sono su Ok Non mi hanno visto eh E da me Calpi 31 due volte Oh mio dio Sono due Sono due Ho 20 materiali Che cacchio No 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 Cavolo Niente Qua questo qua l'ho ucciso quasi Molto Oh mio dio Calpi l'altro sopra L'altro sopra L'altro sopra L'altro sopra L'altro sopra Spera me Spera me No non può finirti Se ti finisci è un pezzo di cacca No ok non mi ha finito Viene dietro da te Calpi E da te E da te sotto Oh cavolo raga Oh cavolo raga Oh cavolo Calpi No la safe Oh zero materiali Vieni qua No la safe No c'è la safe Non ci credo No 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 Sì vabbè Penso che più sfortuna in questa partita Non ci poteva capitare Calpi Eh Aia aia È un po' di fortuna Aveva anche sfortuna adesso eh Vabbè un po' di fortuna Beh effettivamente l'abbiamo avuta la fortuna col Marykid Altrimenti a quest'ora non eravamo qui Oh mio dio Calpi stia facendo la roba più impossibile dell'universo proprio eh Eh ma fra Però raga è talmente impossibile che È proprio impossibile Cioè Non ci sono altre parole per descriverlo raga Impossibile Non mi era mai successa sta situazione del cavolo No una cosa del genere Una cosa del genere Calpi è assurda Mari Chug Dammi 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 tutto Oddio Chug No vabbè Sono morto Sono morto dalla safe Il Chug Il Chug Non l'avevi preso Come ne ho fatto a non prenderlo No Calpi ma non puoi farse parlare a te Ah Lei pensavo di averlo preso No Calpi Oddio Non ti ho preso Scherzi che non ti ho preso Non ti ho preso No vabbè raga No vabbè raga che cosa No vabbè Calpi io ti giuro che Non ti Non sto credendo a quello che vedo Calpi Non sto credendo ai miei occhi raga È troppo epico per essere vero Troppo epico Oh mio dio Chest Dammi qualcosa Dammi qualcosa Grande Oh mio dio Tiratele tiratele cosa fai No ho i cavoli Ho i cavoli Perché questo cavolo è così grosso Infatti è il cavolone Quanto danno i cavoli Danno due Fanno dieci Ah ok fanno dieci nel tempo però Sì sì Perfetto Non hai materiali Calpi è solo un muro Cioè io raga Ho tanta voglia di sopravvivere Oh mio dio Che partita Cioè raga che partita Che partita Ma che cavolata che ho fatto Jump 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 Sì lo so Devo prendere la chaga Eh sì Potevi prendere la chaga effettivamente Eh mi sono un attimo confuso È in safe Sì sì direi Calpi Che partita Sto vedendo Oh mio dio Cioè io raga vi giuro che non Non credo alla partita che vedo È È troppo epica per essere vera Raga Un bel like Iscrivete al canale Nuovo canale link in descrizione E soprattutto raga Codice cap Nel negozio gente Per i pericapitani Mi raccomando Dai raga che è una partita del genere Non credo che Che sia possibile Proprio nella storia Ma cosa fai con la pistola Matti il doppio caccia Ah è vero Hai ragione Grande Oh mio dio Aia raga Aia Aia 33 non va bene 33 non va bene Questi capi non sono scarsissimi Secondo me Ma è uno solo Ah è uno Ma no Ma che dico Ma è vero Sono due team diversi Ok non è forte Vabbè quanta vita hai amico mio Non è forte Non è forte Capi un colpo muore Mannaggia Ah Aia Ehi amico mio Aia Vabbè frat Però se sono Sì se sono qualizzati E infatti devi andare dall'altro Capi Che si qualizzavano Che fortuna No Raga Peccato per la win Ma è stata una delle partite più epiche Che io abbia mai Visto in tutta la storia di Fortnite Vi ricordo Mi raccomando Codice capo di questi oggetti E andiamo a vedere la nostra nuova skin di Aquaman Mi raccomando raga Un bel like Iscrivetevi al nuovo canale Link in iscrizione Iscrivetevi anche a questo canale raga Perché c'è che cavolo Come fate Non iscrivetevi a questo canale Dopo una partita del genere Finalmente Costume Aquaman Sbloccato Tridente di Aquaman Sbloccato E anche Conchiglia Suprema Sbloccata raga Qualcosa di incredibile Raga 50.000 No 50.000 sono un po' troppi 30.000 like per questa partita Codice capo Nei costi oggetti Nei costi oggetti Su supporto al creatore E noi ci vediamo Con un saluto per questo video Ciao 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 Ciao